Tonde allungate, piccole, grandi, insomma zucche di ogni tipo. Le frazioni di Convalle e Piegaio nel comune di Pescaglia sono state prese d'assalto da centinaia di visitatori in occasione della nona edizione della festa della zucca. Questa zona è molto ricca di acqua anche nei periodi estivi e dunque l'habitat favorevole per la coltivazione di questo ortaggio. La zucca veniva utilizzata moltissimo nella vita contadina. Dalla sua buccia si ricavano utensili di ogni tipo, bacinelle, vasi e perfino strumenti musicali. Ma se, questa festa qui è nata nove anni fa, nove anni fa circa sì, con l'associazione Chi c'è c'è che si occupava anche di calcetto e di altre cose. Poi da alcune persone che erano piuttosto abili nella coltivazione di zucche, da loro erano anche quelle grosse che andavano di moda, venne l'idea di fare questa festa, la festa della zucca. Era una cosa nuova, una cosa nuova per i nostri posti. E ciò ebbe subito successo sin dall'inizio.